Cambiare volto agli impianti sportivi della città contribuendo così a riqualificare le periferie e questo l'obiettivo dei bandi emanati dal comune di Palermo per dare il via finalmente ai lavori di recupero del palazzetto e lo sport di Fondopatti e del diamante di via dell'Olimpo dove oltre al baseball si potrà praticare anche il cricket. Si tratta di strutture oggi totalmente abbandonate per ristrutturare la tribuna della piscina comunale di Viale del Fante ci saranno altri fondi e qui si è previsto anche un cantiere che bloccherà per due anni la piscina. Non solo è previsto anche la realizzazione all'interno dell'area verde attrezzata di Parco Bonagia in via della giraffa di uno skate park omologato per le gare internazionali. Un impegno importante per il quale sono stati stanziati 17 milioni di euro che consentiranno l'ampliamento dell'offerta sportiva afferma l'assessore ai lavori pubblici Totò Orlando. Palermo si conferma una città attenta allo sport e decide di valorizzare un settore così nevralgico dichiara il presidente della commissione consigliere sport salvo a lotta. Questo aggiunge Dario Chinnici capogruppo di lavoriamo per il Palermo è risultato lo straordinario lavoro portato avanti dall'amministrazione comunale e in particolare dall'assessore Orlando che consente finalmente a Palermo di voltare pagina e avere dopo anni di attesa impianti sportivi adeguati e all'avanguardia. L'area di via della giraffa ad esempio sarà la più importante del sud Italia per poter ospitare gare nazionali di skateboard. La realizzazione di questi impianti poi produce anche un effetto diretto perché dopo il recupero del velodromo finalmente gli impianti sportivi delle periferie della città di Palermo potranno essere funzionali per gli sport minori e le associazioni sportive.